Buongiorno, benvenuti da Rima Arredamenti. Buongiorno. Posso esservi utile? Sì, volevamo vedere una cameretta per il bambino in arrivo. Certo, sono al piano superiore, prego. Grazie. Ecco, e qua ci sono tutte le camerette con le varie soluzioni. Potete dare un'occhiata, ci ne sono parecchie. E' il primo figlio? Per me sì, per mia moglie no. Sì, è vedova, però ha già una figlia grande, quindi... Mamma, tesoro! Parli del diavolo? Cosa ci fai qui? Sono qui con Gianluigi per vedere la camera. Vila, sorpresona! Ehi, ciao papà! Ciao, tutto a posto ragazzi. Mio padre, sa, è rimasto vedovo. In più, a lui sono sempre piaciute le più giovani. Ha sua figlia e i più grandi e si sono sposati. Quindi attualmente suo padre... È il mio genero. Ha sposato la mia figliastra. Inoltre lei da nuora è diventata la mia matrigna, in quanto moglie di mio padre. Esatto. Cioè, scusi ma... Allora, il nascituro fratello della moglie di mio padre. Quindi, cognato di mio padre, ma anche mio zio, in quanto fratello della mia matrigna. Mamma, papà, dove ragazzi? Siamo qui, amore. Loro figlio. È mio fratello. Figlio di mio padre. Ma anche mio nipote, in quanto figlio della figlia di mia moglie. Dunque lei sarebbe fratello di suo nipote. Sì, ma così risulterebbe che io sono anche il padre della mia figliastra e fratello di suo figlio. Quindi lei... Io sono mio nonno. Sì, ma così risulterebbe che io sono anche il padre della mia figlia di mio padre.